Grazie Presidente. Esprimo la mia soddisfazione alla risposta dell'assessore Ciocchi. In primo luogo perché ho apprezzato quando venne a Carrara all'Assemblea di Assindustria e spinse per un superamento della monocultura del marmo, facendo dichiarazioni per andare verso il turismo. Sinceramente esprimo apprezzamento anche per quegli interventi. Riguardo a questo tema, di cui l'assessore non è assolutamente minimamente coinvolto, non ha nessuna responsabilità, però ho la conferma di quanto temevamo. Si sta parlando di un polo tecnologico che doveva essere realizzato molti anni fa, sono 10 anni, non è ancora completato, sono 10 anni che si sta cercando di fare questo polo tecnologico con una spesa fatta e prevista di 22 milioni di euro più altri 8 di ristrutturazione, dai 22 ai 30 milioni di euro. Il punto è però tutto politico, perché qua c'è una responsabilità, molteplici responsabilità, ma tra queste molteplici responsabilità c'è anche una responsabilità politica di un'incapacità di governare. Allora andiamo a vedere chi è che governa la provincia di Prato da qualche anno a questa parte, ed è il centro-sinistra, non si può chiamare PD perché all'epoca non c'era ancora. Ricordo nel 1999 vince il centro-sinistra, circa 50%, democratici di sinistra, socialisti democratici italiani, vista dei verdi comunisti italiani, Partito Popolare Italiano, democratici in Europa con Prodi. Poi si riva a elezioni e rivince il centro-sinistra, rivince il centro-sinistra con una formazione con Di Pietro, comunisti italiani, sinistra e libertà, PD, c'era già il PD, poi rivince di nuovo il centro-sinistra, di nuovo il centro-sinistra. Siete voi che governate la provincia di Prato da tantissimi anni ormai, forse da quando ci sono le elezioni. Allora mi chiedo, ci sono molteplici responsabilità, ma io in questo luogo devo indicare il dito soprattutto a voi, a quella parte politica del PD che negli anni non ha saputo gestire i soldi pubblici, anzi tuttora continuo a fare dei danni, mi viene in mente l'acquisto a dividere la quiete a Lars, 46 milioni di Euro, più altri milioni di Euro per la ristrutturazione. E poi voi venite a farci la lezioncina a noi, a noi che cittadini, forse anche poi in esperti, da quasi un anno abbiamo preso una città che voi avete lasciato in cenere, l'avete distrutta, voi! E ci venite a indicare come incapaci di fare un polo tecnologico quando mi è arrivata voce che il Comune di Livorno sta semplicemente chiedendo alla Regione, Regione, fatte da coordinamento, sappiamo che si deve fare tra i poli tecnologici il coordinamento, ma vogliamo che il Presidente Rossi sia un Presidente non solo dei sindaci del PD, ma di tutti i sindaci di altre forze politiche, vogliamo confrontarci, vogliamo aspettare la relazione di Invitaglia, Invitaglia farà questa relazione strategica, in base a quello che ci dice faremo un polo tecnologico, perché noi non sprechiamo i soldi ai cittadini, come avete fatto voi col CREAF, questa è la verità, voi negli anni state cercando di farci scambiare i carnefici per le vittime e le vittime per carnefici e noi non ci stiamo, dimostreremo giorno dopo giorno che i sondaggi non sono un qualcosa di aleatorio, ma derivano da un modo di fare politica diverso e più attento dei soldi dei cittadini, a differenza di quello che avete fatto voi col CREAF.